Eccolo là il merdosissimo coso che ci è scappato per 35 lunghissimi anni Vieni qui merdaccia, subito Ok lo stiamo struzzando, vai così Batman Rompigli la noce nel collo porco Judah Vai così grandissimo, guarda là Batman vai Ok, gli stiamo succhiando un po' di sangue ragazzi Tranquilli, tranquilli, è tutto normale Controllo di routine Ok, perfetto abbiamo scansionato anche il tizio E adesso fuga Batman, fuga Ah a proposito, salve ragazzi io sono Zero e oggi siamo su Batman Arkham Knight Scusate ma è successo un po' tutto in fretta Senz'altro signorino, cerco tutte le possibili corrispondenze Mi sfugge come abbia ottenuto questo campione Eh già Ah, eccolo Il sangue è molto mutato ma abbiamo un riscontro parziale Il dottor Kirk Langstrom Cerca a Gotham le proprietà possedute o affittate dal dottor Langstrom Certo, ora controllo Ah, lui e sua moglie hanno un lavoratorio in un seminterratto di Chinatown Le mando l'indirizzo Ma grazie Alfred Benissimo Quindi abbiamo fatto questa cazzata Adesso dobbiamo andare a vedere subito chi cazzo era quel coso Dove aver detto cazzo per 57 volte consecutive Sbattere contro dei muri come se non ci fossero domani E c'è un elicotterista che parla Interessantissimo Insomma ragazzi da quando ci eravamo visti per l'appunto Nella scorsa volta Ho fatto un po' di cosucci ovvero per prima cosa ho modificato un attimo Batman Non alleggiarti Ho modificato un attimo Batman se ricordo come diavolo si mette il menu del cazzo Ok dovrebbe essere questo Dicevo Ho potenziato Batman ma la tuta di Batman Così adesso siamo più resistenti del 50% negli attacchi di mischia Dopodiché ho sentito il suggerimento di alcuni di voi Come per esempio Davix che mi diceva di continuare il gioco Facendo anche le missioni secondarie non solo quelle primarie che siete abituati a vedere Di conseguenza stiamo facendo questa qui del pazzo scatenato o pepistrello o quello che cazzo è E dopo faremo ovviamente anche quella dell'enigmista Proprio perché dobbiamo scoprire anche come liberare lei Detto ciò siamo quasi pronti a scoprire chi diavolo è quel pepistrello rubando un campione di sangue Sai Batman è bello essere tornato Gotham non era più la stessa senza di me E dai spaventa passere il più grande criminale della città Ancora per poco Dove diavolo è? Eh ragazzi l'ho perso di vita Ah ecco guarda sto bastardo dove si è infusciato Salve aspetti Sai che cosa mi piace dei pompieri? Che corrono verso il pericolo Interessante stavo dicendo non mi ricordo quello che stavo dicendo perché sono stato interrotto Dicevo comunque siamo pronti a scoprire chi è questo pepistrello Proprio perché la faccenda è molto ma molto strana Soprattutto perché c'è un pepistrello mostro mutante E in Batman queste cose di solito non accadono a meno che non era col tizio verde tipo Hulk Vabbè lo scoprirete poi casomai in qualche fumetto di Batman o qualche film Detto ciò siamo finalmente arrivati al punto di estrazione Eccoci qua Batman contro il muro vai così E' stata un po' triste come cosa Vabbè comunque siamo arrivati Scendi Batman Colpisci un fringuellolato Come abbiamo fatto prima più o meno No dicevo colpisci una coccinella Perfetto Va bene eccoci qua Vai Laboratorio di Kirk Langstrom Ok sembra tipo Ehi Houston abbiamo un no Batman Vai usiamo l'ascensore e scendiamo con cautela Attendendo che qualcuno ci ammazzi Perché questi posti sono un po' luschi E vedere Batman qui è una cosa un po' strana Dunque Salve scatola Ha visto qualcosa lei So che ha visto qualcosa e non faccia la finta tonta Guarda come fugge Fugge agli interrogatori lei E me fa qua Viene qui scatola No che la scatola è sparita Ah no eccola qua Vabbè la scatola non sa nulla dai Andiamo avanti altrimenti qui Rimaniamo a perseguitare delle scatole e ucciderle senza motivo Qui intanto cosa c'è? Ah Simpaticissima come cosa Non tantissimo ma comunque Ok C'è un computer Forse ti mantiene risposte Ah 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 Aspettate Il video Ecco lo sapevo Io non credo sinceramente Poi son gusti Cioè son gusti Che cazzo ho detto non lo so Vabbè andiamo avanti Dunque questa è una bellissima sedia Devo ammettere che proprio Mi ci sederei volentieri Poi qui ci sono altre cose abbastanza inquietanti Ma poi dovremo scoprire Dove diavolo è il car Ah è morto Ah perfetta è morta lei Cioè perfetto no Però insomma è morta Oh mio dio è morta che dispiacere Insomma volete sentire questo Trauma da colpo alla testa Eh già si vede E quel cane mi sta rompendo un po' i coglioni Non so se voi lo sentite Ma non importa A me sta rompendo i coglioni parecchio Dunque Detto ciò tra un po' Andrò a buttargli una fetta di carne addosso Ah ok Quindi questo è quello che è successo Vabbè se l'è magnata E perfetto Si è trasformato Facendo delle cose abbastanza oscene Benissimo il dottore Sembra Desmond Miles Di Assassin's Creed Tutte le ricerche del dottor Langstrom Ah quindi Si insomma Questo sarebbe un computer E' un po' bruttino però eh Non si incazzi E' brutto Ma bughe su gusti Però insomma Sequenze Vabbè non leggo Perché altrimenti Oh non capiamo un cazzo Ok Non male Dovremmo aspettare tutto questo tempo Oh no ho sbagliato Ho sbagliato Momento allora E non so a cosa serva No no scherzavo Scherzavo eh Ok Non ho capito precisamente a cosa serve Devo essere sincero Forse devo No no come Ragazzi Come si fa sta merda Non ci sto capendo più una sega Va bene Una sega marcia No Vabbè io ragazzi Io cambio tutto come se non ci fossero domani Tipo Ok vedete A culo a culo completamente Visto ragazzi Questa si fa a culo Non si deve pensare Che pensate voi Non pensate ragazzi Agite No 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 cazzo No no Ok Agite dicevo Non pensate Ti prego un po' di botta di culo No Ok ce la faremo Dai che ci siamo Batman Cos'è Batman Ce l'abbiamo fatta Fanculo Ora devo soltanto fargli prendere la medicina Eh Una parola Lo dobbiamo pestare a sangue Poi scusi Vuole un po' di medicina No penso lo dovremmo prima pestare a sangue Ma proprio sangue Ora devo trovarlo Hai idea di dove si nasconda No però questi pali mi confondono la vista Dove cazzo devo andare Aspetta di qua Non è vero una ser Porca putta Grazie Alfred Mi sono solo un attimo perso in questo posto lusco Ah c'è la porta Via Stava parlando il tizio ma non fa niente Salve Joker Che ha da dirmi Sua moglie Mi sta perforando lo stomaco con delle mani Sono forse i parenti morti che trasformano i roditori giganti Già Eh direi che questo è un piccolo bug che forse nessuno aveva mai riscontrato Va bene Non importa Joker Le battute fanno un po' pena devo dire la verità All'inizio erano divertenti ma ora fanno un po' pena Come ci ne andiamo Io ho la piccola impressione che appena attiveremo questo coso Arriverà un pipistrello gigante e ci porterà via Perché ovviamente Succederà Perché è così Oppure no Ok non è successo Bene ragazzi quindi prossimo step andiamo a trovare il fottutissimo pipistrello E diamogli una lezione Allora seleziona missioni E facciamo subito Ecco cosa c'è che non va Trova matban e somministra la cura Ah quindi dobbiamo trovarlo Il pipistrello si sta nascondendo Quando apparirà sarò pronto Ah ok ragazzi quindi questa qui non si può fare benissimo Però perlomeno abbiamo scoperto le prime cose Adesso seconda cosa da fare subito Dal cazzo in culo Sì Sì Selina lo so sto vedendo anche Gotham su Italia 1 Che è finito tra l'altro Ma dettagli Insomma Dobbiamo andare a salvare la Cattina Perché per l'appunto è stata rapita dal Dal tizio L'enigmista Che sarebbe anche il nome che non ricordo Nigma Edward Nigma Oh elicottero di merda Guarda come guidi E così ragazzi siamo giunti finalmente a destinazione dopo 35 anni di viaggi interspaziali con elicotteri che ci tagliano la strada Eccoci qua Perfetto Scendi Batman dai scendi Scendi Batman Ah E dall'altra parte Batman Sei un coglione Batman Aspetta Ok immagino sia qui da qualche parte No non ci serve la campagna per il disarmo Grazie Allora ci sono degli uomini che ballano Che tirano sassi Complimenti a voi ragazzi Io vado qui eh No no Non sono Batman Ma chi dice che sono Batman Vai a cagare No aspetta Eh l'hai voluto tu giovanotto T'ho detto che non so Batman E vaffanculo Aia mi ha tirato un cazzotto Via Picchialo Batman Picchialo Batman scusate Ogni tanto mi confondo che i nomi Capo Special Che cazzo è successo Non lo so ma lo sto ingroppando Perfetto No Non si permette mai più Guardala che potenza Cazzottoni Seee Volevo dire cazzottoni del demonio Però ho visto il cazzotto ho detto Oh mio dio che paura Andiamo Allora Qui Chiamo a Batmobile Perché dovrei farlo Non lo so ma immagino ci aiuterà a sfondare il muro Batti vini qua Che cazzo di strada fai Batti porca vacca Ok Ci hanno aperto il garage quindi Ottimo Adesso dovremo andare Alla vita Batti Sono un detective Da quando in qua sono un detective Io tecnicamente sarei un miliardario Ma dettagli eh Dettagli Non sono un fottutissimo detective Testa di anguilla Guardate adesso gli sto cercando l'occhio No sei andato Volevo cercargli l'occhio Col cosa posteriore della Batmobile Non è il culo Comunque Andiamo Calidon o Calidron Non ho letto in tempo Fottuto bastardo Benissimo Che si fa? Si Che si fa? Stai fissando? Con attonita incomprensione Un meccanismo che ho calibrato Perché risponda a un impulso radar Estremamente preciso Tra poco Tirarò il codice decriptato Cavaliero scuro Oh ma prima Rifasciamo praticamente le regole Per i divertimenti di Questa notte Regola prima Ti rivolgerei Fatto Due secondi ci vogliono Lurido idiota Va bene Lo sapevo che succedevano cose del genere È un coglione tanto Mi abbassi sti cosi Please Dovrei passare In questa prova dovrai completare Tre tracciati Ciascuno prima dello scadere E' un po' lì Ahà Andiamo detective Burn out Facciamo il burn out Scusate Scusate Va vai Che cazzo nel soio Vai così Batman Vai così Batman Vai che cazzo Ci abbiamo provato Così Batman Ancora Batman Vai così Apri la porta Batman Grandissimo ragazzi Stiamo diventando dei felini Guarda là Che potenza Sui muri Ok andiamo di qua Anche se la Batmobile No siamo morti Oh che culo ragazzi Che culo Mio dio L'ho fatto all'ultimo secondo Va bene vai così Batti Mi fido di te Sgomma Batti Batti il se buona un cazzo Però perlomeno ti tengo così Per bellezza Eh Eh ragazzi Che intuito Che intuito Grandioso Adesso Vai Batti Eh no Batti Sei una merda Non capisco Ok Perché prima non era andata Fottuta Batti di merda Benissimo Ce la faremo Lo scopriremo nel prossimo Non è vero Ebbene ragazzi Dopo aver perso A quanto pare Il tizio Ovvero il cazzo Ok Dicevo a quanto pare Dopo aver perso L'enigmista Vuole che noi Rifacciamo tutto il percorso Però prima Dobbiamo trascinarci Con l'auto Fino all'inizio Del percorso Che avevamo appena fatto Quindi che due Coglioni incrociati Eh vabbè A sta velocità Guardala Che velocità A Batman Grandissimo Sì comunque Come sapete Il mio R2 Come vi ho già detto In tantissimi giochi Non mi funziona bene Di conseguenza Anche quest'auto Fa un po' pina E Cosa ancora più importante Ho dovuto potenziare I post bruciatori Perché altrimenti Non ce la faceva Sta merdaccia Guarda là Come rallenta Come la merda Come la merda I left my doubts when I was swept by the ocean And every pulse from the tide was a finish line A wave race we were made to ride You and I were first in line And we took them by surprise I was with you all the time You may not realize But I'm here I hear you loud declare When we get lost in our own minds You'll be keeping me near Grazie a Dio ho capito Era semplicemente una stronzata Ovvero vi fate così via Poi quadrato cioè circhio scusate E si apriva la merdaccia sotto Stupido enigmista del cazzo Bene ragazzi siamo tornati qui E vaffanculo però non puoi partire così direttamente Via! Ok vi facciamo tutto il percorso Ormai il percorso lo sapete Quindi non so cosa ho fatto Perché sono andato qui Non lo so Vabbè in ogni caso Che c'è? Vabbè in ogni caso Ho sbagliato porta Scusate sono andato per sbaglio fuori Quindi io ritorno Faccio tutta la gara E poi ci vediamo Perché ormai la gara la sapete Quindi sti gran cazzi A fra poco E finalmente ce l'abbiamo fatta Grazie a Dio Cosa più veloce Le tue stupide sinate Cosa più veloce Aspè No non lo sapevo ragazzi Scusate Un altro tracciato di merda Chi diavolo lo sapeva Perfetto Sono un idiota Mi serve più velocità Ah Capisco E come diavolo Ah quindi va proprio Che figata Perché non potevo farlo prima sta cosa Ragazzi siamo contro un muro perennemente Comunque non penso ce la faremo per adesso E via Ragazzi siamo morti No intendevo Non penso ce la faremo In questo momento Ma ce la faremo Forse nel prossimo episodio Perché questo episodio Sta durando un po' troppo E forse lo finiremo fra poco Vai così Ah quindi Altro giro Fighissimo Vai così Vai Batman Vai Batman Con il post bruciatore Ce la facciamo ragazzi Perché ovviamente La macchina Guarda là che 360 Che ovviamente la macchina regge Vai macchinuccia Così E vai che ce la fai Ok perfetto Dai c'è Non si usa il re 2 in poche parole Finish Ok c'è un altro E basta porca puttana Sì Sì Certo Quanti diavolo di percorsi ci sono qua Che sono tutti uguali poi No no Vaffanculo sto pezzo di merda Guarda come mi frega Ok dall'altra parte Scusate Dai Batman Ce la fai Batman Così Oh porca vacca Ma perché questa cosa Non ho capito Mi sta facendo incazzare Come una piscia Ok Oh mio dio Guarda là Grandissimo Batman E la Batti Comunque si sta rivelando Davvero un'ottima macchina Guarda la Batti Con quanta leggiadria riesce a fare le cose No Batti attenta però c'è il burrone là Porca vacca Batti stia attenta Ecco Come ha detto lui Non sbagliamo ora Che siamo quasi giunti Ah giusto Si riapre Scusate Dicevo sì Non sbagliamo ora Anche se ho già sbagliato Quindi probabilmente ce la faremo da capo Dai che manca poco Non contro il muro Non contro il muro Perfetto Ok Dai che ci siamo Porca vacca Di nuovo Sì Finish Ti prego Ok Questa è stata bellissima Yes Che cazzo ha detto Non mi fido molto Sinceramente Quindi devo proprio saltare io con Non ti fidare E' una cosa molto interessante Non entrare nella bat Che cazzo c'entra a fare Esci lurido Ok Quindi penso dovremo fuggiare Fuggiare Mio dio Piggiare dei bottoni In modo che vadano Non ne ho la più pallida idea Ah passa Catwoman Ok Ok Batman Vediamo se sei intelligente Come dicono Eh veramente ho premuto La cazzo di cane Mo muore Boom Sono un grande ragazzi A culo ci fa sempre tutto Grande Batman Ragazzi è stata una cosa orribile Va bene In ogni caso io penso anche che questo episodio possa finire qui Perché siamo stati un po' troppo tempo E io non ho più tempo Forse Immagino Vabbè Proviamo a fare almeno quest'ultima prova Così vedremo come si concluderà la faccenda Vai Batman Così Batman Qui Sembra mio nonno comunque quell'uomo Vabbè Dettagli Salve nonno Sì sentiamo stavolta Le altre Non tengono chiavi meno utili Chiavi che spargeranno Un scarso contenuto del tuo teschio Su tutti i muri dell'orfano troppo Il tuo lavoro detective è semplice Indovina la vetrina che Catwoman deve aprire E che cazzo ne so Non sbagliarvi Ah penso sia molto semplice Aspettate Una sola Bene Posso farcela Sì Puoi farcela Dillo tu donna Non io Allora lì è così Perfetto Ho capito Ragazzi abbiamo fatto Non è che ci voglia un genio a farlo comunque Stupito idiota È la prima Ok Quindi è questa Ok Batman Tra l'altro avevamo anche incarrato prima per sbaglio Vai così gattina Questa è la chiave giusta Fidati di me Fidati mu Crepa un'altra volta Dai Vittoria Altre otto Ma che due coglioni Momento Devo vedere gli upgrade Di Batman Allora Io per quanto mi riguarda Farei ancora una volta La Batmobile Perché non serve una minchia Vabbè Non c'ho i punti Vedremo un'altra volta Per il momento Continuiamo a vedere Che cosa succede Nella storia Non sperate di affondare i vostri artigli Su molte altre Va bene Interessantissima come cosa Ho sbagliato qualcosina Eccoci qua Batman Adesso direi di uscire Giusto Allora Blocco mentale Premi sinistra Per vedere le altre sfide Ra Ma bellissimo Non mi interessa più di tanto Grazie Bene Quindi a quanto pare Abbiamo fatto anche questa sfida Se vogliamo chiamarla così Detto ciò ragazzi Io direi anche che questo episodio Va bene Per questo episodio va bene Quindi ci vedremo Nel prossimo episodio Detto ciò Io spero che il video vi sia piaciuto Se sì ovviamente Mettete mi piace Condividete Commentate Ed iscrivetevi Vediamo cosa da dire E bu Guarda che l'ho finita la sfida Mi sa che idiota Ok Grazie per la battuta squallida Nonno Ma comunque A parte il nostro bel nonno simpatico Noi ci vediamo così In un prossimo episodio Sempre qui su Batman Arkham Knight E qui c'è una bomba Perché c'è una bomba Ok L'altra bomba del tizio Sì Ah Questa è la missione principale Immagino Vabbè non ci interessa Alla prossima Un saluto a tutti E al prossimo video Bye 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 Grazie a tutti.